Si chiamava Gaetano Domenico Mastroieni, l'autotrasportatore forlivese ucciso nel piazzale dell'Amadori questa notte schiacciato dal camion di un collega che stava effettuando una manovra. Aveva 65 anni e viveva a Forlimpopoli. Questa mattina siamo proprio qui sul parcheggio dell'Amadori perché come è ovvio che accade ci sono anche i sindacati, i delegati, i vari rappresentanti per fare un po' il punto della situazione, soprattutto sugli incidenti, sugli incidenti in questo caso mortali ma anche incidenti più lievi che in una popolazione come quella dell'Amadori dove lavorano 2000 persone possono accadere purtroppo. Siamo con Cristiana Bianucci della Flai CGL, questa mattina è qui in azienda insieme ad alcuni colleghi per fare un po' il punto della situazione. Sì, diciamo che ci siamo subito dati un appuntamento per cercare di capire bene che cosa è accaduto, come sono andate le cose e soprattutto tutto quello che possiamo fare per sollecitare l'azienda a intervenire affinché non accadano più situazioni di questa gravità inaccettabile. Quindi con Fai CISL e Willa Will nel corso della mattinata definiremo azioni comuni da mettere in campo per purtroppo far fronte a situazioni future cercando di evitare che ci siano ancora episodi di questa gravità. L'azienda vi ha convocato intanto? L'azienda ha convocato la RSU, faranno il punto proprio in questi momenti e subito dopo capiremo come è più opportuno muoverci perché questa è un'azienda che è cresciuta moltissimo, forse troppo nel senso che poi gli spazi non consentono di lavorare in piena sicurezza, gli infortuni purtroppo fioccano e questa tragedia in mane di questa notte dimostra che l'allerta non è mai sufficiente, insomma che dobbiamo alzare il livello dell'attenzione assolutamente. La sicurezza non è mai abbastanza in questa azienda fatta e costituita da 2000 dipendenti, quindi insomma voglio dire una delle aziende più grandi che si trovano nella nostra regione, la sicurezza qual è secondo voi? Beh, sono tantissimi i fronti su cui c'è da lavorare, noi abbiamo più volte incontrato l'azienda su questi temi, sollecitando interventi a vari livelli, il punto è che appunto le dimensioni sono talmente ampie che il lavoro da fare è moltissimo, anche se c'è una struttura e un'attenzione, ma evidentemente va... Ma voi registrate incidenti durante l'anno magari che la stampa non conosce? Certo, gli infortuni sono numerosi, sono di varia entità come in tantissime aziende perché purtroppo oggi si lavora in velocità, con ritmi che sono molto sostenuti e si lavora spesso in spazi e condizioni per cui non c'è sufficiente formazione, non c'è sufficiente attenzione. Quindi è inevitabile che ci sia il momento della distrazione o il momento in cui purtroppo qualcosa va storto. Solo la settimana scorsa a Teramo c'è stato un presidio dei sindacati ad eccezione della CISL. Cosa pensate di fare per tornare a sollecitare questo problema? Beh, adesso sullo specifico caso ancora dobbiamo organizzarci, la cosa è purtroppo appena accaduta ed è appunto di una gravità tale per cui è giusto anche lasciare un momento al rispetto del dolore della famiglia e di tutti i lavoratori, di tutti i colleghi che hanno assistito a questa scena tremenda. Detto questo però il presidio che abbiamo organizzato la settimana scorsa era sull'onda del caso di Firenze e quindi aveva un valore nazionale. Il punto è che ogni giorno, ogni singolo giorno ci sarebbe la necessità di intervenire su questi temi e di tenere alta l'attenzione perché ogni singolo giorno è un bollettino di guerra, ogni singolo giorno c'è una ferita che lacera il corpo di lavoratori e lavoratrici e che lascia tante famiglie senza un caro, un familiare. Quindi da questo punto di vista il lavoro non basta mai, forse bisogna aggiustare il tiro, forse bisogna al di là della necessaria protesta e della necessaria azione di sensibilizzazione, forse è anche il momento che andiamo ad intervenire su tutte quelle questioni che nel tempo hanno reso più deboli i lavoratori, quindi sia sulla tipologia dei contratti, sia sulle condizioni degli appalti, sia sulle condizioni dell'oggettiva quotidiana azione nei luoghi di lavoro. Quindi è proprio necessario andare ad intervenire. Mi viene da dire che forse la politica qualcosa di più lo debba fare e forse anziché affannarsi magari a raccomandare i lavoratori in un'azienda piuttosto che nell'altra potrebbe costruire insieme a noi cultura del diritto anziché cultura del favore.